guarda che queste cose qua le fanno si ma la velocità io ci avrei i coglioni non mi piacerebbe questo per donne è anche al bordo se l'ho visto io ce l'ho ripresa qua ma guarda veramente sono numerosi che cosa vuoi segnalare guarda 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 che si mette su due gambe guarda 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 che si mette su due gambe guarda 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 guard